Che Bari sarà quello di Cosenza? Domanda d'obbligo alla vigilia della trasferta che vale una stagione. Di fronte a un avversario a più 3 sui 36 punti di Vicari e compagni che se il campionato finisse oggi giocherebbero il play-out per restare in Serie B contro lo Spezia. Davanti a sé il Bari avrà soprattutto i propri limiti evidenziati nel corso di 34 giornate povere di emozioni e ricche di contraddizioni. Niente conferenza pre-partita per mister Federico Giampaolo, scelta che replica la strategia vista una settimana prima per Bari-Pisa. Per decifrare la possibile formazione che scenderà in campo al San Vito Marulla allora occorre affidarsi alle sensazioni e alle scelte obbligate. Una di queste corrisponde a Marco Nasti, assente dai titolari dal 10 marzo, ex della partita, 27 presenze e 5 reti con il Cosenza nella scorsa stagione. Sarà con ogni probabilità l'attaccante Scuola Milan a indossare i panni di centravanti. Non c'è concorrenza nel ruolo, considerando le precarie condizioni di Davide Diò e l'intervento alla mano al quale è stato sottoposto Giorgio Puskas nella giornata di giovedì a Milano. Stop di almeno una settimana per il centravanti rumeno, per il quale la stagione potrebbe essere finita anzitempo. Altro dubbio tra i pali, le incertezze palesate da Brenno nello scorso turno hanno riaperto il ballottaggio con Pissardo. A destra in difesa Pucino insidia Dorval, mentre in mezzo al campo Maite e Benali rappresentano le certezze. Al di là degli interpreti conterà lo spirito, lo spiega l'ex centrocampista bianco-rosso Daniele Devezze. Io credo che Giampaolo e Vito metteranno secondo me i migliori undici a prescindere dal modulo per fronteggiare questa partita. Perché questa qua è la partita che decide la stagione secondo me. Quindi non scegliere quei giocatori che in questo momento danno una sicurezza anche a livello fisico. Adesso serve gente che sta sul pezzo per 90 minuti e che dia l'anima da quando fischia all'inizio fino alla fine. Altro nodo da sciogliere il modulo sarà ancora 4-2-3-1 a setto proposto contro il Pisa o Giampaolo andrà a infoltire il centrocampo rinunciando magari a uno tra Callone e Morachioli con l'avanzamento di Sibilli in attacco e l'innesto di uno tra Bellomo e Lulic a centrocampo. Dubbi che accompagnano una partita da sei punti come spiegato da Valerio Di Cesare in settimana in conferenza stampa a spingere il Bari verso il ritorno a una vittoria assente in campionato dal 17 febbraio 1-0 casalingo sulla Feralpi Salò e in trasferta addirittura dal 29 ottobre 2023 1-2 a Brescia ci saranno anche 2.000 tifosi nel settore ospiti. Obiettivo spingere via i fantasmi di quella retrocessione che come ammesso dal capitano saprebbe di fallimento tecnico.